Benvenuti a questa edizione del nostro TG Sud, apriamo con questa firma del protocollo d'intesa che è avvenuta questa mattina in Prefettura a Tramani per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza anche per numerose strutture commerciali della città come in particolare le ribendite di tabacchi. Per noi c'era Chiara Conticello. Presentato e sottoscritto questa mattina nei locali della Prefettura di Tramani il protocollo d'intesa videoallarme antirapina. L'intesa, siglata a livello territoriale, mira a garantire maggiori livelli di protezione e sicurezza grazie all'installazione presso gli esercizi commerciali di sistemi di videoallarme collegati in rete con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. È un protocollo che discende dal protocollo nazionale rinnovato di recente a livello ministeriale tra il ministro Piantedosi, l'Associazione Nazionale di Confcommercio e di 100% e viene declinato sul territorio attraverso le prefetture e la collaborazione che c'è con le associazioni e le loro articolazioni provinciali. È uno strumento che rafforza il senso di sicurezza e di protezione degli operatori. Pensiamo alle strutture ricettive piuttosto che a orafi, piuttosto che a tabaccai, piuttosto che ad altre categorie che agli esercizi pubblici che in ragione dell'attività che svolgono possono essere esposti. Qui si coniuga la tecnologia, la novità della tecnologia che garantisce un più tempestivo, in caso di rapina, un più tempestivo collegamento tra il luogo e la sala operativa delle forze dell'ordine. Quindi con una funzione, si spera, deterrente, ma anche con una funzione utile poi agli effetti info-investigativi per eventuale ricerca dell'autore del reato. Affermare il protocollo il prefetto Daniela Lupo, Conf Commercio Imprese, Conf Esercenti Trapani e la Federazione Italiana Tabaccai di Trapani. Il protocollo che disciplina gli impianti di videosorveglianza e gli esercizi commerciali, noi associazioni di categoria abbiamo deciso di aderire proprio perché teniamo alla sicurezza dei nostri iscritti e soprattutto ci preme e ci importa che l'attività e l'esercizio dell'attività commerciale dei nostri iscritti sia svolta in maniera sicura. All'ordine del giorno leggiamo di una crescente tendenza anche ad atti a furti, a danneggiamenti in tutta la Sicilia, l'abbiamo visto, sono all'ordine del giorno e lo leggiamo dalla cronaca. Il riuscire ad avere delle regole comuni e soprattutto chiare per le aziende significa agire e operare tutti con delle regole comuni. Questa era la sezione della notizia del giorno, tutte le altre notizie tra poco con la prima edizione. I titoli di oggi, Cutrara, un'altra misura patrimoniale, il sequestro di beni è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Trapani. Il caldo che uccide, rimedi e suggerimenti, temperature altissime, sono ovviamente un problema soprattutto per la popolazione anziana, ne parleremo nel corso del Tg. Giovani e impresa, un'iniziativa che si è tenuta ad erice in partenariato con Confartigianato dove si è parlato di imprenditoria giovanile. E poi ancora, Famigliana, gran finale in musica, cala il sipario sulla rassegna organizzata dall'associazione Egusea Nuova, Vincenzo Bellini. Per lo sport, JD resta, Valeriano Dorta ai microfoni di Sport Sudestate, ieri sera ha confermato la permanenza della guardia JD Note in Granata. E l'approfondimento lo dedichiamo alle ricette della mia vita, Giussi Battaglia, famosa al pubblico per il suo programma Giussina in cucina. Ieri a Trapani ha presentato il suo terzo libro al Circolo del Tennis. Però apriamo il Tg con l'operazione Cutrara. C'è stato un altro provvedimento, un'altra misura patrimoniale di sequestro di beni che è stata eseguita dai carabinieri. Vediamo. I militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani insieme ai colleghi della compagnia di Alcamo hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla sezione misura di prevenzione del Tribunale di Trapani nei confronti di Francesco Stabile, 65enne di Casella Mare del Golfo, arrestato nell'operazione antimafia Cutrara nel 2020 e attualmente detenuto. Nel corso delle indagini sarebbe stata ravvisata una sproporuzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato con il sequestro di un'abitazione, tre terreni e un'area con annesso fabbricato, il tutto per un valore di circa 200 mila euro. Nei giorni scorsi un altro sequestro di beni era stato disposto per Antonio Sabella, 67 anni di Casella Mare del Golfo, coinvolto nell'operazione antimafia Cutrara e condannato in appello a 7 anni di reclusione. I militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani con i colleghi della compagnia di Alcamo, anche in questo caso hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Nel corso dell'operazione Cutrara sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale procura della Repubblica a carico di altrettanti esponenti della famiglia mafiosa di Casella Mare del Golfo per associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Francesco Lovoi, dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti procuratori Gianluca De Leo e Francesco Dessi, hanno permesso di disarticolare la famiglia mafiosa di Casella Mare del Golfo che, nonostante dissiti interni, vedrebbe saldamente al vertice il pregiudicato Francesco Domingo, soprannominato Tempesta, già condannato a 19 anni di carcere per associazione di tipo mafioso ed altro e ritornato in libertà nel marzo del 2015. L'indagine è stata avviata dopo la scarcerazione del padrino Francesco Domingo, processato separatamente perché ha scelto il rito ordinario, ricostruito dagli inquirenti l'organigramma della famiglia mafiosa che, come emerso dall'inchiesta, sarebbe stata guidata dal boss appena uscito di cella. In realtà, secondo gli inquirenti, Domingo non avrebbe mai lasciato il comando nonostante fosse detenuto. Il clan risulta dalle indagini controllava le attività economiche, in particolare dei settori agricolo ed edilizio. Attraverso minacce e intimidazioni, i boss sarebbero riusciti ad aggiudicarsi i lavori e avrebbero svolto un ruolo di mediazione e risoluzione delle controversie tra privati, sostituendosi alle situazioni. Prima adesso, appunto, dei rischi che ci sono per le temperature troppo elevate. Il caldo uccide, purtroppo lo sappiamo. Le temperature altissime sono un problema, soprattutto per la popolazione anziana. Ecco cosa fare. Le stime dicono che negli ultimi 4 anni siano morti in Europa circa 300 mila anziani dai 75 anni in su, con numeri che fanno preoccupare anche per la popolazione dai 65 ai 75 anni. I dati hanno rilevato un aumento del 63% in più delle morti dovute al caldo nelle donne, con l'incidenza più alta nella regione del Mediterraneo. Il caldo uccide e purtroppo si tende a sottovalutare il rischio dei cosiddetti colpi di calore, cosa ben diversa dalle insolazioni. I colpi di calore possono avvenire anche dentro le mura domestiche per scarsa ventilazione e soprattutto per scarsissima idratazione. Come darsi aiuto allora? Riguardo il problema del caldo, attenzione soprattutto ai familiari e ai propri anziani. Ovviamente controllare il corretto ripristino dell'idroelettrolitico, questi soggetti devono bere, la regola di 10 bicchieri al giorno, controllare il livello cognitivo ed eventuali improvvisi e variazioni di tipo comportamentale di questi pazienti, valutare per quanto possibile i parametri essenziali, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, non trascurare particolari sintomi insidiosi come la vertigine per esempio. Quindi cautela, consigli in questo senso quindi di tipo attivo e protettivi per quanto riguarda il prevenire l'eccessivo contatto con ambienti particolarmente caldi in questa fase. Poco altro, soprattutto vigilare su questi pazienti anziani, monitorare l'alimentazione, l'idratazione, alimentazione che deve essere ovviamente diversa da quella che normalmente è presente in inverno, quindi maggiore apporto di liquidi e frutta e verdura, ben lavata ovviamente. Direi di evitare per certi versi cibi di dubbia conservazione, quindi mi riferisco a cibi come l'insalata russa piuttosto che creme o panna o gelati, creme di non certa origine, soprattutto che non siano derivati da fonti dove vengono poste in essere tutta una serie di regole igienico-sanitarie che evidentemente evitino che si verifichino gastroenteriti acute e quindi tutte queste cose vanno tenute da conto. Andiamo a fare un giro in Sicilia, sul serio davvero perché è stato riaperto a Messina alla presenza dell'assessore alle infrastrutture Ricò il viadotto denominato Ritiro ed è una notizia riguardo un po' la viabilità appunto di tutta la regione siciliana. L'opera ha previsto l'adeguamento statico e il miglioramento sismico con l'utilizzo di 100 dissipatori del viadotto Ritiro con completa demolizione e ricostruzione degli impalcati di questo strategico snodo viario fra le autostrade siciliane a 18 e a 20, tra lo svincolo Messina-Boccetta e la barriera di Villa Franca-Tirrena. I lavori sono stati realizzati dalla Totocostruzioni Generali e sono costati complessivamente 68 milioni di euro, dei quali 51 milioni a carico del bilancio del CAS, 14 milioni finanziati dalla regione con fondi a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 e 30 milioni a carico dello Stato per il caro materiali. Presente alla riapertura del viadotto l'assessore regionale alle infrastrutture a Ricò. Un'opera imponente di 900 metri di lunghezza, un'opera costata 60 milioni, dopodiché tra due giorni verrà riaperta la galleria e giorno 9 verrà riaperta entrambe le carreggiate dall'altro senso di marcia. Quindi il sistema a ritiro sarà completato dopo 27 anni di attesa. In questi primi 20 mesi il governo Schifani è stato in prima linea per il monitoraggio dei centinaia cantieri in Sicilia. In primis sulla Palermo Catania dove lo stesso Presidente della Regione Renato Schifani è commissario di governo dove i frutti del suo controllo si stanno vedendo quotidianamente. Lo stesso stiamo praticando sulla Palermo Agrigento, opera che ci siamo presi l'impegno di inaugurare o comunque aprire e chiudere tutti i cantieri già a dicembre di quest'anno. Oggi siamo anche su viadotto il ritiro, un'opera che comunque doveva essere aperta qualche mese fa e comunque c'è stata un'accelerazione negli ultimi mesi per dare la possibilità ai tanti fruttori di questa infrastruttura di poterne godere già prima dell'inizio della settimana di ferragosto. Vogliamo ricordare anche i numerosi morti nei cantieri, non soltanto siciliani ma di tutto il mondo. Tutte le altre notizie nel prossimo blocco informativo. Adesso parliamo di questo convegno che si è tenuto a Eric su Giovani e Impresa, dopo andiamo a Favignana per la rassegna organizzata dall'Associazione Egusea Nuova Vincenzo Bellini e infine lo sport con soprattutto notizia di ieri sera, la riconferma di J.D. Note con la Travanisciara. Ad Erice nel corso di una iniziativa che si è tenuta nella sede del CAI in appartenariato con Confartigianato si è parlato anche di Giovani e di Impresa. C'è voglia di mettersi in gioco e di spendersi per la propria terra, ma le difficoltà non sono poche anche se l'idea e la voglia di fare non manca. Di Giovani e Impresa si è parlato ad Erice nella sede del CAI durante un'iniziativa promossa assieme a Confartigianato che ha anche avanzato delle richieste al sindaco toscano durante l'incontro. Abbiamo avuto l'opportunità, l'occasione, nelle scorse settimane di incontrare tanti giovani imprenditori ericini, quindi conoscere quelle che sono le loro problematiche e raccogliere le loro istanze. In particolare è messa una problematica un po' in comune per tutti, che è quella di non aver avuto in una fase iniziale, quindi una fase di start-up, una linea guida chiara su cosa fare, quindi aver commesso tanti errori in una fase iniziale. Errori che poi possono rivelarsi fatali per la giovane impresa, dalla scelta errata della forma giuridica a magari andare a richiedere dei prestiti con dei tassi molto alti. Dunque noi come Confartigianato Giovani da circa un anno abbiamo istituito uno sportello che si chiama Sportello in Forma Giovani, è uno sportello che dà una consulenza assolutamente gratuita al giovane che vuole creare impresa nel nostro territorio, quindi attraverso dei consulenti, degli esperti di finanza agevolata, dà la possibilità di conoscere tutti quelli che sono, intanto i bandi attivi per creare impresa avendo anche degli incentivi a fondo perduto e avere anche una consulenza chiara anche sulla forma giuridica da intraprendere. Abbiamo quindi avanzato al comune di Erice la proposta di pubblicizzare questo sportello attraverso i canali ufficiali del comune, riuscendo dunque a dare anche ai giovani ericini che magari vogliono entrare nel mondo dell'imprenditoria, hanno un'idea imprenditoriale e hanno il sogno di aprire un'attività, di potersi approcciare con Confartigianato e di poter avere quindi delle linee chiare, una linea guida su cosa fare, essere seguiti dall'A alla Z lungo tutto l'iter, soprattutto lungo la fase di start-up che è la fase più difficile per un'impresa. E tra i settori di interesse per i giovani imprenditori ci sono anche quelli legati all'ambiente e alle attività outdoor, puntando sul potenziale naturalistico del territorio e sulla sua bellezza. Il nostro territorio è un territorio che potrebbe davvero vivere di turismo, quindi tutte quelle attività legate al mondo del turismo e anche ai servizi al turista sono delle attività che comunque ogni anno vediamo sempre più nascere nel nostro territorio. Anche grazie a diversi bandi come il Resto al Sud che negli ultimi anni ha finanziato centinaia di imprese legate al settore turistico in provincia di Trapani. Dalla Regione arriva il contributo di un milione di euro per il Comune di Palermo per fronteggiare l'emergenza rifiuti. Continuano ad essere ore difficili per il Comune di Palermo che oltre alla mancanza di acqua dovuta alla grave siccità che la Sicilia sta affrontando, deve fare i conti con l'emergenza rifiuti. A Palermo, soprattutto le periferie, annaspano tra l'immondizia. Il tutto a causa dei problemi alla discarica di Bellolampo e alla mancanza di personale da parte della RAP che prova a fare il possibile per accelerare nella raccolta. Inoltre l'azienda non può più garantire lo straordinario a causa della mancanza di fondi. I residenti chiaramente sono esasperati dal cattivo odore alimentato anche da forte caldo e da topi e scarafaggi a contatto con i rifiuti. Una situazione invivibile dunque che ha portato il Governo della Regione siciliana su disposizione del Presidente Renato Schifani a depositare in Aula un emendamento alla manovra finanziaria in corso di approvazione all'Ars per andare incontro alle esigenze del capoluogo. Si tratta di un contributo di un milione di euro per sostenere gli sforzi dell'amministrazione comunale per mitigare l'emergenza che ha anche risvolti di salute pubblica e un possibile impatto sul turismo nel pieno della stagione estiva. La Regione sta lavorando per risolvere in maniera definitiva e strutturale in tutta l'isola il problema dello smaltimento dei rifiuti con la costruzione di due termovalorizzatori e di altri impianti pubblici per il trattamento con l'obiettivo prioritario dell'aumento della raccolta differenziata. Gran finale per Favignana in musica con Arianna Rimini. Con il concetto di Arianna Rimini, ieri sera all'ex stabilimento Florio si è chiusa la rassegna Favignana in musica organizzata dall'associazione Gusea Nuova Vincenzo Bellini con il patrocinio del Comune. L'artista, accompagnata da Fabrizio Parrinello e Pier Giorgio Perrella, ha proposto una selezione di brani della Black Music ricevendo calorosi applausi e apprezzamenti da parte dei numerosi spettatori presenti. Ti è stato veramente un piacere suonare questa sera qui alla Tonnara Florio a fare questo viaggio nella Black Music con Fabrizio Parrinello, Pier Giorgio Verrella, io sono Arianna Rimini e ringraziamo l'associazione EGUSEA e tutta l'amministrazione per averci ospitato. Quindi grazie, 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 grazie e alla prossima. La manifestazione chiude con un bilancio estremamente positivo tutti gli otto concerti in programma hanno registrato grande partecipazione confermando il successo delle precedenti edizioni e l'interesse del pubblico. La rassegna favignana in musica è diventata ormai un appuntamento imperdibile per la nostra comunità e per i visitatori, ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione evidenziando come la qualità degli artisti e l'entusiasmo del pubblico confermino la validità di questa iniziativa culturale. Il primo cittadino dell'arcipelago ha poi tenuto a ringraziare l'associazione EGUSEA per l'impegno e la dedizione nell'organizzazione dell'evento e tutti coloro che hanno partecipato. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente vi ricordo l'edizione serale del TG Su delle 19.40 e poi invece alle 20.30 spazio alla serata di premiazione, la serata finale del Marettimo Italian Film Festival. Tutte le notizie sul nostro sito ufficiale nel corso della giornata. Tra poco lo sport. La Trapani Shark ha la sua guardia, è stato riconfermato JD Notei. Dopo un lungo periodo di attesa a Trapani è arrivata la notizia che molti attendevano. JD Notei resterà alla Shark. La decisione è stata presa in seguito a una lunga riflessione in merito agli slot dedicati a giocatori stranieri riservati in Serie A. E Trapani ha deciso che il prodotto di Arkansas, in seguito a quanto fatto vedere lo scorso anno, soprattutto nei play-off, merita la riconferma. Numeri stellari quelli di Notei lo scorso anno. In gara 1 contro la Fortitudo Bologna ha realizzato 39 punti con un 7 su 9 da 2 e 7 su 10 da 3. Abile in penetrazione, Notei potrà essere un giocatore importante nelle rotazioni di coach de Peja, anche se non sono state ancora definite le gerarchie. A confermare la permanenza in Granata di Notei, è stato il ADS degli Shark Valeriano D'Orta, ospite ieri a Sport Sud estate, che si è soffermato tra l'altro a parlare anche del mercato. Dino Tè, in questo momento è confermato, farà parte della squadra fin dall'inizio, quindi dal 12 agosto sarà con il resto della squadra, farà tutto quello che è la pre-season insieme a noi. Stiamo facendo comunque delle valutazioni, stiamo guardando il mercato per cercare di aggiungere un'altra pedina sempre nel ruolo degli esterni e poi un'altra pedina nel ruolo dei lunghi. Per i due reparti stiamo cercando un giocatore. Ho visto tanti nomi che sono usciti a riguardo, questo ci fa piacere perché vuol dire che c'è interesse, quindi vedere Trapani affiancata a nomi importanti e prestigiosi a livello europeo, ovviamente questo non ci fa solo che piacere. Focus adesso sullo settore giovanile del Trapani Calcio che nella prossima stagione affronterà 5 campionati, dalla Primavera 4 fino alla Selezione Under 15. Lavori in corso in casa FC Trapani 1905, attenzioni rivolte non solo alla prima squadra, ma anche al settore giovanile che nella prossima stagione conterà 5 formazioni. A coordinare il tutto ci sarà Pietro Dell'Orzo, reduce da 8 anni con il calcio Sicilia, 7 titoli nazionali e uno scudetto il suo palmarès. Contemporaneo al suo arrivo è divenuto ufficiale il ritorno in granata di mister Salvatore Aronica, già sulla panchina di Beretti Under 17, che guiderà la formazione della Primavera 4. In questo senso l'ex difensore di Regine Palermo sarà coadiuato da Mirko Spataro, anche per lui il ritorno a Trapani, Fabio Rizio nelle vesti di preparatore atletico e Antonio Della Corte, collaboratore tecnico. In granata sono arrivati dal Palermo i 2007 Luca Regina, Simone Pipitone, Benedetto Scalavino e Leonardo Sappuchella. A disposizione di Aronica ci saranno anche Riccardo Sciortino, centrocampista 2005 e Capitanone le formazioni giovanili di Sampdoria Palermo. In porta Simone Salamone, ex Rosanero e Benevento. Ancora da definire gli staff tecnici di Under 17 nazionale, Under 17 elite e Under 15 regionale. La formazione Under 15 nazionale sarà guidata da Mattia Rao, confermato in granata dopo gli ottimi risultati della passata stagione. Rao potrà contare sull'apporto di quattro elementi provenienti dalla Primavera Marsala. Si tratta di Alessio Angileri, Marco Genna, Giulio Ottoveggio e Enrico Tumbarello. A quadruare il tecnico ci saranno il preparatore atletico Alessio Sanmartano e l'allenatore dei portieri Rosario Cerro. Arrivano al Trapani tre giocatori provenienti dall'Adelcam. Si tratta di Giovanni Vassallo, Federico Salamone e Michele Bosco. Vassallo e Salamone sono difensori Bosco e un attaccante. Dal Mazzara 2000 invece sono ufficiali i tesseramenti di Vincenzo Genna e Denis Melia, rispettivamente difensore centrocampista. Pietro Giambalvo invece è un attaccante che arriva dal Belice. Confermato in granata il difensore Davide Militello. Ufficiale al Trapani, l'innessi di Saul Rega negli ultimi due anni alla Fiorentina classe 2008, esterno destro. E Kevin Moye, attaccante che nella scorsa stagione ha messo a segno 25 reti con l'Under 17 Elite del Cus Palermo. La società Granata inoltre ha riconfermato tra i 2009 Enrico Pipitone, Gabriele Santoro e Antonino Giustiniano che militeranno nella 17 nazionale. Notizia di ieri invece gli arrivi in primavera di Moanel Ogniemi, esterno d'attacco classe 2006 ed ex lucchese, e di Caleb Kubi, fantasista proveniente dal Palermo e che aveva già militato in engranata nel 2019-2020 nell'Under 15. Conferma per il difensore classe 2007, Domenico Brancato. L'approfondimento è curato dalla nostra Chiara Conticello che ieri sera è stata la presentazione del terzo libro di Giussi Battaglia nota al grande pubblico per la sua trasmissione Giussina in cucina. La presentazione del libro si è tenuta al circolo del tennis di Trapani. Non solo panelle, crocchette e arancine, Giussi Battaglia nota al grande pubblico per il suo programma Giussina in cucina e molto di più. E lo ha dimostrato ieri alla presentazione del suo terzo libro Le ricette della mia vita, organizzato dal circolo del tennis. Noi come circolo del tennis ovviamente siamo votati al tennis, allo sport in generale, al padel. Abbiamo ragazzi che giocano a tutti i livelli, dalle giovanili a tante altre campionate. Però abbiamo voluto dare una svolta, nel senso che abbiamo voluto offrire ai nostri soci, ma non solo ai soci, a tutti coloro che hanno piacere, di venire qui al circolo con una serie di eventi, presentazioni di libri, presentazioni di testi, di autori e dare qualcosa in più ai nostri soci e a tutti coloro che hanno piacere di venirci a trovare. Giussina fa parte di questo lungo elenco di eventi, ci ha fatto piacere davvero che ha accolto il nostro invito, è una persona che stimiamo tutti, è riuscita a dare della Sicilia un'immagine diversa, che è un'immagine anche piacevole, che è la cucina, la cultura culinaria e quindi qualcosa che è gradita anche a tantissime persone, anche se non sono sportive. La più famosa ambasciatrice gastronomica della Sicilia ieri ha incontrato il suo pubblico trapanese e ha raccontato le sue origini, da giornalista a cuoca televisiva. Giussina in cucina nasce dall'incoscienza di un direttore di rete, di Food Network, che ha creduto che io potessi essere un po' l'ambasciatrice della cucina siciliana. Così è nato per caso nel 2020 con il lockdown questo progetto, che è diventato qualcosa di più. E affiancato al progetto televisivo sono nati i miei libri e oggi sono qui perché presentiamo il mio terzo libro, La ricetta della mia vita, che è un po' un viaggio in cui racconto sia le mie ricette tradizionali siciliane ma anche le ricette della mia quotidianità, quello che io mangio con la mia famiglia, con i miei amici, perché la gente pensa che io mangio sempre tutto super siciliano, sfincione, panelle, arancine. Le mangio anche, ma generalmente nella mia quotidianità mangio anche altre ricette semplici, facili, da mettere a tavola anche quando si ha poco tempo. Il libro presentato ieri ha una prefazione stellata, quella dello chef Antonino Cannavacciuolo. Quando gliel'ho chiesto ad Antonino di scrivere la prefazione ammetto che ero molto emozionata e mi batteva il cuore perché avevo timore che a lui mi dicesse di sì solo perché magari gli sembrava brutto dirmi di no. Invece l'ha fatto con amore, con cuore, perché ha visto in me la passione. Lui dice che io ho la luce negli occhi e questa cosa mi ha davvero emozionata e mi commuove ogni volta che ci penso. Intanto, Giusy Battaglia è pronta per nuovi progetti continuando con le tante collaborazioni già in corso e soprattutto con il suo programma Giusina in cucina. Sotto l'aspetto editoriale sto ultimando, già è consegnato ma siamo alla fase di correzione del nuovo libro che uscirà a ottobre e poi continuerò con il mio programma televisivo Giusina in cucina, continuerò ad essere ospite nel programma di Antonella Clerici è sempre mezzogiorno e sono felice.